SIGLA Credi davvero che le ragazze comunicassero con noi? Non lo so. E non so se sperare che fosse vero oppure no. Noi dovremmo scoprirlo. Sì, sembrava in grado di controllarsi, ma... Non dovevamo menzionare le sue sorelle. Ma è per loro che siamo tornati qui. Sì, ma non per... Una seduta spiritica. Forse abbiamo esagerato. SIGLA 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 Ma non c'è neanche corretta. STRADO Ah, è Chris! Porca miseria! Stai bene? Credo di sì. Guarda. Cosa? C'era qualcosa dietro i libri. Che cos'è? Un pulsante. Che ci fa un pulsante qui? Ottima domanda. Lo premo? I pulsanti servono a questo in fondo. Oh, stanza segreta. Da non credere. Per caso siamo finiti in un film? Nel caso speriamo sia uno di quelli romantici. Tipico degli Washington avere passaggi segreti in casa. Magari nemmeno lo sapevano. Il posto è molto vecchio. Allora, diamo un'occhiata? Dopo di te? No, 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 no. Vai tu. Ehi, grazie. Wow. Cosa? Wow. Cosa hai trovato? Porca vacca. Esce, non voglio spaventarti, ma... Guarda qua. Cosa? Chris, cos'è quella? Credo sia quello che la tavola spiritica voleva che trovassimo. L'indizio? Sì, è una lettera. Fammi vedere. È una minaccia. Chris, è gravissimo. Dobbiamo trovare Josh. E subito. Cos'è stato? Secondo te qualcuno ce l'aveva davvero con Anna e Beth? Se sì, sarebbe davvero un bel casino. Sembra della madre di Josh. Sì, sta cercando di sistemare le cose con attributi nativi americani. Già, il karma cattivo non svanisce. Beh, ho ripensato a una cosa che ho visto prima con Sam. Cioè? C'era una specie di manifesto del ricercato, come nel Far West, sai? E? E Sam era convinta che ci fosse qualcuno che la seguiva. Quindi mi stai dicendo che c'è un criminale qui in montagna con noi? C'era un messaggio sulla segreteria telefonica. L'ho ascoltato. Era di questo sergente e parlava di questo tizio appena uscito di prigione. Dicendo di non poter... Cosa vuoi dire? Lo diceva come... Un avviso. Voglio dire... Magari era proprio lui nel seminterrato prima. Cosa? Sotto il pavimento, in biblioteca. La luce. Eh, c'era quel tizio di cui... Aspetta, aspetta, quale tizio? Il tizio che ha minacciato gli Washington. Ha detto di volersi vendicare bruciando tutto quanto. E ho trovato la lettera dello psicopatico. Chris, se questo è il tuo tentativo di farmi sentire meglio, non funziona. Hai sentito? Quello era Josh! Vado alla cucina. Josh! Josh! Arriviamo, l'esercito! Ashley! Cosa succede? Vai dietro! Ashley! Io... ti... Es? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti piacciono così tanto come credi? Beh, è un esercizio di onestà. Dimmi chi fra le due persone che ti mostrerò ti piace di più. Fai con calma, le risposte sono importanti. Grazie a tutti. E dimmi, in questo gioco che stai facendo con diligenza, chi non ti piace? Un po' troppo stronza per te? Spesso una mancanza di fiducia si manifesta in eccessiva presunzione. Pensaci. Non ti sembra forse simile a te? Ah, di nuovo il tempo è scaduto. Ne riparleremo presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.